Grazie a tutti. Che significa? Colli, l'attimo. Grazie mille. Perfetto. Perché vedete ragazzi, tutti noi, siamo un cibo per i verdi. E guardate, vicinati, guardate queste facce qua. Mi vedete? Vi assomiglia, vero? Stessi ormoni e stessa voglia di vigere. Ma attenzione perché vedete, tutti noi, tutti noi un giorno smetteremo di respirare, diventeremo freddi e moriremo. Sicuramente queste volte li avete visti, ma di sicuro non li avete guardati. Di sicuro loro avranno avuto come voi la stessa voglia di arrivare, di vincere, di farcela. I loro cuori saranno stati come i vostri cuori. Quello vedete ragazzi? Ora questi sono concime per i fiori. Avvicinatevi. Vi prego. Ascoltate, sentite. Sentite il loro monito. Carpe diem. Carpe diem. Sentite? Carpe diem. Conviete l'attimo ragazzi. Fate diventare grandi le vostre vite. Salve Fabio Farrona, tattore. Vivo a Roma. L'attimo fuggente. Non c'è il tavolo però paziente.